ciao a tutti buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale buon martedì oggi realizziamo un video differente come avete visto dal titolo insomma è un video un po un filmato un po diverso rispetto al solito perché chi segue insomma abitualmente questo canale sa che qui si si parla di fumetti ma si parla prevalentemente di fumetti italiani di fumetti bonelli che sono anche un po quelli che meglio conosco poiché leggo da più tempo per quanto riguarda i manga quindi i fumetti giapponesi finora era arrivato soltanto un video su questo canale avevo infatti parlato di un manga volume unico che si chiamava che si chiama insomma mai broken marico che tra peraltro mi era piaciuto moltissimo ma non ero più ritornato sull'argomento e ci ritorniamo oggi pomeriggio perché insomma chi conosce già questo manga probabilmente sa sa perché rido perché oggi pomeriggio voglio parlare con voi del primo numero soltanto del primo numero perché finora di questa serie ho letto solo questo volume di prison school che è un manga del 2011 realizzato da akira iramoto e partiamo un po con i dati tecnici perché voi qui potete vedere che io ho una bella pila di di questi di questi volumi relativi a questo manga ma non ce l'ho completa poiché l'opera in questione si compone di 28 volumi di cui io ne posseggo circa una quindicina 15 16 18 un qualcosa del genere per cui diciamo che me ne mancano una decina abbondante per poter completare la serie stiamo parlando di un manga ideato appunto da akira iramoto nel 2011 e conclusosi dopo 28 volumi nel 2017 ne è stata fatta anche una versione animata quindi un anime voi sapete che c'è la differenza manga anime non il manga è il fumetto l'anime è la trasposizione diciamo in cartone animato anche se in giappone il termine manga sta a diciamo indicare qualsiasi tipo di fumetto quindi per per un giapponese anche un fumetto italiano anche un diabolic potrebbe essere un manga ecco comunque ne è stata fatta anche una versione animata che più o meno è composta da una dozzina di episodi più addirittura anche un un film ovviamente un film non non realizzato per le sale cinematografiche ma fondamentalmente per il mercato home video ecco potremmo dire così e stiamo parlando di un manga che nonostante sia insomma già da qualche anno che è concluso quindi non è assolutamente un una novità non è uno non è uno di quei manga attualmente in uscita diciamo è comunque un'opera che ha venduto parecchio poiché io andando a guardare un po a dare una sbirciata ecco qui si parlerà di sbirciate comunque cerchiamo di andare con ordine dando una sbirciata su wikipedia ho scoperto addirittura che questo manga ha superato i 13 milioni di copie vendute per cui insomma voglio dire diciamo che non è passato in sordina ecco non è passato inosservato io l'avevo potremmo dire così conosciuto ecco tramite il cartone animato di cui però ho visto soltanto qualche qualche puntata non ho approfondito più di tanto poiché io non ho grande pazienza di mettermi lì a guardare gli anime preferisco leggermi il manga che nella stragrande maggioranza dei casi è anche più immediato ecco quindi più veloce avevo appunto insomma ero venuto a conoscenza di questo particolarissimo manga e così incuriosito e anche divertito da quella che così a grandi linee era la trama ho deciso di acquistarlo e ne ne parliamo ecco poiché io ho letto il numero uno e credo che sia sufficiente così per potervi dare una veloce panoramica sulla sulla trama in questione sul soggetto ecco potremmo dire così di questo di questo volume poi io molto probabilmente continuerò a leggerli perché come vedete ne posseggo più della metà molto probabilmente cercherò anche di recuperarmi quelli che ancora mi mancano e quindi magari se se poi lo riterrò opportuno quando avrò finito ecco di leggere tutta la serie potrò farci anche un altro video dove tirerò così le somme no dove potrò raccontarvi un po le mie considerazioni finali questo filmato quindi serve per mettervi al corrente se non lo sapete dell'esistenza di questo di questo di questo manga e per raccontarvi un po così il soggetto poi sarà vostro insomma vostra decisione ecco capire se approfondire o meno questa questa testata dunque di che cosa parla questa questo questo manga beh parla di un un istituto potremmo dire scolastico un collegio un istituto scolastico privato denominato achimitsu situato ubicato nella periferia di tokyo quindi in giappone come potete vedere già da questa prima tavola no dove ci viene mostrato questo istituto questo collegio questo istituto scolastico solo che questo istituto scolastico era sempre stato un istituto femminile quindi era una una scuola interamente dedicata unicamente scusate dedicata alle studentesse di genere ovviamente femminile da poco tempo però insomma il istituto scolastico achimitsu decide di aprire le sue porte anche agli studenti maschi mette diciamo come posso dire comunicando ecco però che le regole di questo istituto scolastico sono particolarmente severe ed è vietata ogni forma di interazione tra maschi e femmine per diciamo per evitare che si che vengano commessi degli atti impuri fondamentalmente no è anche perché gli studenti sono adolescenti no quindi con gli ormoni a palla no da quando questo istituto l'istituto achimitsu viene aperto anche al pubblico maschile si scriveranno effettivamente degli studenti maschili appunto di sesso maschile che però saranno estremamente pochi in rapporto alle studentesse femminili infatti si parla solo di cinque studenti maschi tutto il resto dell'istituto è composto da delle studentesse femminili i nostri cinque studenti maschi che possiamo vedere già da questo frontespizio eccoli qui sono poi i protagonisti del nostro manga no questi cinque ragazzini anche piuttosto piuttosto insomma diciamo pittoreschi dal punto di vista caricaturali vedete in alcuni casi dal punto di vista dell'aspetto fisico saranno un po' i nostri protagonisti anche se il protagonista assoluto sarà Kiyoshi Fujino soprannominato semplicemente Kiyoshi che possiamo vedere in questa in questa vignetta mentre invece qua ci vengono velocemente presentati anche gli altri studenti maschili di questa di questa di questo istituto e quindi loro sono cinque sono in netta minoranza no rispetto a tutte le altre studentesse femminili sono anche molto timidi non hanno mai avuto esperienze con il gentil sesso non hanno neanche mai parlato con una ragazza e quindi non hanno mai neanche insomma avuto modo di vedere ecco dal vivo le potremmo dire le grazie femminili no? ecco e quindi che cosa succede? succede che loro sono assolutamente in soggezione rispetto a a tutto il resto diciamo di questo istituto e decidono di fare una determinata cosa decidono di fare quella che si potrebbe definire insomma una sì una una bricconata ecco decidono di andare a spiare le le altre studentesse le ragazze diciamo mentre queste stanno facendo stanno facendo la doccia no? decidono di spiarle con una sorta di eh di 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 cellulare con attivata ovviamente una videocamera che caleranno attraverso un filo in una delle finestre di di questo bagno no? in comune solo che che cosa succede? succede che verranno beccati quindi non riusciranno a mandare in porto di questa questa così innocua bravata e scopriranno l'esistenza di una di una vera e propria sorta di prigione da qui il nome del manga prison school sita all'interno della scuola nella quale verranno rinchiusi per un mese per scontare un po' questa questa punizione no? della quale si sono resi colpevoli andando tentando di spiare queste le loro compagne di di liceo e insomma subiranno diciamo delle vere proprie torture da parte di della presidentessa Mari che poi sarebbe la la figlia diciamo del del preside della scuola che poi vedremo anche è un tipo particolare ma probabilmente lo lo analizzeranno sarà meglio analizzato ecco nei successivi numeri della serie ma anche la vicepresidente Meiko e la segretaria Ana che appunto si avranno il compito di controllare e di insomma dirigere ecco diciamo questi questi cinque studenti durante la loro prigionia da lì in poi capiteranno tutta un'altra serie di di avvenimenti di vicende ultra divertenti venate quindi da secondo me un tutto sommato sottile nonché estremamente simpatico velo di erotismo tutto sommato io ho guardato su wikipedia come viene etichettato questo manga e viene addirittura etichettato come un seinen quindi dovrebbe appartenere a quella categoria più matura di di fumetti giapponesi di manga sapete che i manga vengono solitamente suddivisi tra i seinen e i shonen ecco qualcuno potrebbe parlare di entai quindi dei manga erotici diciamo addirittura pornografici parlando di prison school ma in realtà sembrerebbe non avere abbastanza come posso dire competenza ecco per essere inserito nelle nella categoria entai etichettato come un seinen anche se in realtà c'è c'è molto erotismo c'è c'è quell'erotismo comunque molto insomma ci sono scene del genere ma che potete vedere che non non mostrano fondamentalmente nulla ecco e ci sono delle 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 scene di violenza potremmo dire perché alla fine questi cinque poveretti quando vengono rinchiusi diciamo in questa parte della scuola di vita prigione subiscono delle vere proprie botte da parte di queste tre arpie che però sono delle bellissime ragazze quindi c'è anche un po' la contrapposizione si gioca sul fatto che alcuni uomini o meglio alcune tendenze sessuali di alcuni uomini siano a favore diciamo del subire delle violenze da parte delle delle donne del del sesso debole che qui diventa molto forte tremendamente forte qui i ruoli si ribaltano assolutamente però non è un fumetto femminista è assolutamente è un fumetto ironico umoristico piacevolmente assurdo lo potrei quasi definire come potete vedere ci sono delle scene dove questi questi poveretti vengono veramente sottomessi ecco dalle da dalle sì dalle loro arpie potremmo definire dalle loro aguzzine però è tutto buttato sulla risata sull'ironia sull'umorismo quindi anche la violenza potremmo dire che qui è mostrata non è mai una violenza come posso dire fine a se stessa ma una violenza cattiva ecco una violenza atta a colpire a rimanere impressa è una violenza insomma estremamente così divertente scherzosa come potete vedere ci sono anche delle scene abbastanza insomma esplicite diciamo dove i personaggi femminili vengono realizzati in maniera molto audace no molto prosperosa ecco e dal punto di vista dei disegni che poi vabbè ovviamente il manga è dotato di sovraccoperta è ben fatta come edizione è ben fatta scusate l'intermezzo tecnico però ho colto l'occasione e dicevo come disegni come disegni secondo me siamo un po' sempre sullo stile dei dei manga perché abbiamo dei delle delle vignette che vengono realizzate in maniera estremamente dettagliata qui con un tratto quasi grottesco no potremmo dire però questo viso potrebbe quasi sembrare realistico e non stilizzato come la maggior parte dei dei volti manga e poi abbiamo anche insomma i classici classici volti da fumetto manga abbiamo le vignette più piccoline con uno stile estremamente più stilizzato potete vedere e quindi abbiamo un po' dei diciamo delle alternanze ecco per quanto riguarda lo stile che secondo me risultano comunque molto molto efficaci vedete questi personaggi estremamente caricaturali questo questo personaggio con un faccione enorme che è soprannominato andrei questo è il suo vero nome questo è il suo soprannome scusate con occhi naso e bocca minuscoli no ovviamente sono caricaturali ecco sono così ironici scusate l'aereo che decolla alle mie spalle disegni secondo me molto molto carini beh guardate anche insomma ci sono dei bei volti che vengono ritratti ritratti molto bene c'è ovviamente un utilizzo dei retini molto molto presente ma secondo me non invasivo sono dei disegni veramente carini ecco e potete vedere c'è anche qualche non splash page ma qualche vignetta particolarmente interessante sotto questo punto di vista è un fumetto veramente molto molto leggero molto molto ironico molto divertente di cui io appunto ho letto soltanto il primo numero per adesso però sono sinceramente incuriosito nel proseguirlo e questa era un po' così la trama a grandi linee o perlomeno l'incipit ecco poi io neppure io so che cosa poi succederà nel corso degli altri volumi giusto per citare qualche altro dato tecnico in chiusura di questo video stiamo parlando di ovviamente un brossurato con una sovracoperta con le alette potete vedere questi tankobon quindi questi volumi venivano originariamente venduti diciamo al prezzo di 4 euro e 90 quindi non costano neanche tantissimo diciamo in rapporto ai ai nostri insomma soliti bonelli che possiamo trovare in edicola piuttosto anche che ad altri manga io qui non ho sottomano no non ho sottomano Asadora che io sto seguendo che è un manga che sta uscendo per la prima volta soltanto in questi in questi in questi mesi quindi è una vera e propria novità i volumi sono poco più grandi di questi come formato e costano 7 euro e 50 quindi diciamo che questi sono abbastanza economici potremmo dire così anche se di base sono comunque 5 euro con con 5 euro si fanno tante cose ecco bene io concludo qui questo questo video non so se voi conoscete questa serie oppure no però nel caso la conosceste fatemi sapere magari se l'avete letta tutta oppure se avete visto il cartone animato l'anime scusate ma io non sono molto preciso con con i termini riguardanti il fumetto giapponese che non lo conosco benissimo ho letto qualcosa in passato ho letto Dragon Ball ho letto Hunter Hunter ho letto Claymore ho letto Wolfguy e ho letto anche qualcosa ad altro ma poco ecco non sono un grande esperto di fumetto giapponese però quando capita qualcosa di carino lo leggo più che volentieri bene io spero di non avervi annoiato più di tanto con questo video se conoscete appunto questo questo manga fatemi sapere magari se se non lo sapevate siete rimasti colpiti dalla trama fatemelo sapere per il resto io vi ringrazio vi auguro un buon proseguimento e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti